benvenuti a tutti logistics ed analytics italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto semplice e importante non so se vi è mai capitato di installare il libreoffice nel computer e trovare il dizionario dei del correttore ortografico in italiano mai meno tutti in inglese noi non riusciamo bene a capire perché avvenga questo tipo di fenomeno abbiamo installato il nuovo kubuntu e l'abbiamo scaricato dal sito ufficiale italiano ma libreoffice 7.2 in pratica ci si è installato con i menu in inglese andiamo a vedere che cosa significa se noi abbiamo libreoffice noi possiamo vedere sin da qui che menu vedete sono in inglese se apriamo per esempio un'applicazione apriamo il writer noi ci rendiamo conto che siccome abbiamo installato il sistema operativo dal sito italiano e il correttore ortografico è in italiano se noi scriviamo scuola con la q vedete ce lo corregge no facciamo un po di zoom ce lo corregge tasto destro vedete che abbiamo il correttore ortografico italiano ma come vediamo tutti i menu sono in inglese vedete c'è questo tasto qua che tira fuori i menu quelli vecchi noi utilizziamo i menu diciamo a scheda lo possiamo trovare qui nel menu visualizza interfaccia utente e scegliamo se facciamo la diciamo la praticamente la toolbar standard quella di menu o quella a schede ma notiamo che qualsiasi cosa noi scegliamo anche se in italiano tutto questo che tutto ciò che riguarda l'interfaccia in inglese allora come come si fa noi abbiamo trovato praticamente questo file qua se si va nel terminale e si dà questo questo comando il super user quindi sudo apt install libreoffice trattino l10n trattino it ebbene questa installazione di questo file finalmente ci installa l'interfaccia utente in inglese nel sistema ripetiamo il comando c'è il super user quindi dopo va messa la password super user sudo apt install libreoffice poi qui tutto attaccato trattino l10n attaccato it e facciamo invio vedete che in alcuni casi e nel mio caso è già installato vi potrebbe dare dei messaggi d'errore vi potrebbe dire che ci sono dei repositories rotti per esempio broken repositories ma vi dà il comando fix da fare fate il fixing del riposito ve lo scrive qui e poi rifate questo comando e funziona che cosa succede dopo aver installato questo singolo file che se noi andiamo nuovamente per esempio all'interno di libreoffice vediamo lo rilanciamo e poi andiamo all'interno di un applicativo per esempio il writer attendiamo un attimo finalmente se noi tiriamo fuori i menu quelli diciamo vecchi e andiamo all'interno del menu tools options noi possiamo vedere che all'interno della della voce language settings languages finalmente qui dentro abbiamo anche italiano vedete default italian prima non ce l'avevamo quindi questo vedete bisogna stare attenti non sono i settings del local che indica che in italia abbiamo l'euro oppure i settings del controllo ortografico che indica che bisogna fare il controllo ortografico in italiano questo qua user interface è la lingua dell'interfaccia utente quindi dei menu noi scegliamo italian default facciamo apply ci dice che evidentemente deve essere riavviato il programma ed ecco che adesso quando ripartirà se noi vediamo vediamo che qui abbiamo tutto in italiano vedete strumenti aiuto documento writer noi clicchiamo avviamo il writer un'altra volta e finalmente vedete che abbiamo tutti i menu in italiano vedete quindi quello che abbiamo fatto è semplicemente inserire all'interno di questo menu strumenti opzioni che adesso in italiano nella voce impostazioni della lingua sotto voce lingue finalmente la possibilità di passare dall'inglese all'italiano se voi quell'italiano non l'avete e avete soltanto l'inglese pur essendo il controllo ortografico in italiano tutto quello che dovete fare da terminale installare questo questo file con questo comando sudo apt install libreoffice lineetta l10n lineetta t se vi dà degli errori vi segnala il comando per fare il fixing dei repositories voi lo scrivete esattamente come ve lo segnala rilanciate il comando e poi finalmente troverà troverete libreoffice nella versione italiana con i menu in italiano bene il video finisce qui grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine speriamo sia stata di vostra utilità al prossimo video di logistics ed analytics italia grazie a tutti